Foodglory.com per i vostri spacchettamenti trovate il link in descrizione Buona missione E ciao a tutti amici sono il vostro caro Dexter e oggi sono qui per aprire 11 if in 11 pacchetti Immediatamente dovete spolliciare perché sono arrivato fuori classe 1 quindi a breve dovrebbero arrivarmi insomma i pacchetti tipo da 40 if o 11 if Fatemi sapere se volete un episodio speciale solo di quello e poi a 50.000 mi piace Come promesso ogni giorno con l'arrivo dei toti ci sarà uno spacchettamento selvaggio Ma banda le ciance fatemi sapere chi avete trovato voi ma adesso sono euforico e contento di spacchettare i 10 pacchetti 10 ben 10 pacchetti giocatore squadra della settimana questa è la fottuta squadra della settimana Diago Silva l'ho trovato di trovarlo non mi farebbe male punto soprattutto a Pogba Hazard a banda le ciance 10 pacchetti faccio il spacchettamento veloce l'avevo promesso Allora sono pronto spacchettamento veloce spolliciate iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per altri spacchettamenti Saranno tutti nell'era dei toti tutti i toti ogni giorno uno spacchettamento e subito voglio Pogba Non è Pogba vediamo chi è Paparapà Si così Subito unicardio 87 E si sboccia si festeggia e andiamo E andai è così Maurito Maurito va in tachicardia per la rima La tua tipa mi prende per via orale fra come la tachipirina Invia al club e questo non è la lista trasferimenti che ce lo vendiamo E' andata bene è andata bene Secondo pacchetto deve andare meglio Non ha laggato Chi sei? Bernandeschi Il bomberone della Fiorentina Non sono pipponi Anche questo stesso discorso lista trasferimenti Ce ne mancano otto Prego lagga Non ha laggato merda Chi è? Che cazzo ti riti Müller cinese Tarocco Dai abbiamo iniziato bene Che minchia sei Oh però non è malissimo Nel club L'ho avuto per le spot builder No me ne apro un altro Deve aspettare la settimana 15 E poi uno non scambiabile Deve laggare Questa è una merda Sicuro al 100% è una merda No No non ci credo Porca mignotta Lo devo scartare No vabbè Non ci credo Non ci voglio credere Non ci voglio credere Devo scartare i card di 87 Cazzo Dai che mi valeva 100.000 crediti Non ce la posso fare Ho scartato un if 87 Non è uno scherzo No i cardi Va bene Addio Addio Insegna gli angeli A farsi le biondine Io me lo sento Me lo sento Me lo sento Dai 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 Per Ronaldo Todi Per Ronaldo if Per Ronaldo si if Non è un cazzo Di top player Chi è? Tetesca ver Terzina Insomma Non ce l'ho comunque Plat and Dart Questa è proprio C'ha il cognome Plat and Dart Ora Ci apriamo uno Scambiabile Quindi spero sia un over o l'alto È un giocatore La squadra della settimana Scambiabile In teoria potrei usarlo anche per la squadra della settimana successiva Ma tanto i pacchetti Della foot champion Mi trova bello Quindi adesso lo apriamo Con cautela Anzi Non con cautela Me ne vado Lo sto aprendo Ciao Ti prego Dimmi che lagga Voglio vedere un walk out Walk out Culo ma va Fanculo Ma chi è sto pippone Teodoro Ma chi cazzo te vuole Dai FIFA Fammi per te solo il salame Ancora il vero Tetescan dell'Herta Berlin Ciao Te scarto Mancano tre pacchetti Solo tre pacchetti Prego FIFA Devi laggare Devi laggare Devi laggare What the fuck Ryan da pippone Mancano due pacchetti Dunque non ce l'ho questo Quindi me lo tengo Cambio anche maglietta L'altra volta ha funzionato Metto quella del Manchester Visto che Pogba è del Manchester Magari Vero? Vero FIFA che sculiamo con Pogba? Ancora Ultimissimo pacchetto Questo è scambiato Oh Una cazzo di magia Fammi la FIFA Una cazzo di magia Ancora i cardi Ma stavolta Non lo scarto Ho trovato sette i cardi Stavolta Non lo scarto Ti attacchi Nella lista trasferimenti Stavolta E ci siamo Ultimissima possibilità ragazzi Iscrivetevi al canale Lasciate like 50.000 like Spacchettamento toti Tutti i giorni Come promesso E quando usciranno breve Insomma Dopodomani Tra tre giorni Gli 16.40 if Che mi danno Porterò Spacchettamento solo di quello Veloce Un po' più o meno Come questo Ci siamo Ultimo Giogatore Non ha laggato Quindi una pippa immonda Sì cazzo Sì 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 Tiago Sì 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 E me lo vado a rivendere E me lo vado a rivendere E andiamo Dai Mi aspettavo Pogba Mi aspettavo Hazard Ma avremo tempo per prenderli Grazie al foot champion Noi ci vediamo per restissimo un nuovo video Iscrivetevi se non è ancora fatto Facebook, Instagram, descrizione Io vi mando un abbraccione Un salutone Ci vediamo Ciao gente Di Hermes nella cinta Ho così palle che fa Potrei mettere in cinta Una tipa già in cinta